benvenuti signore e signori alla classifica delle cinque cose da fare se non volete cambiare il mondo un episodio speciale del podcast di italiano avanzato per portare un po di umorismo sui soliti argomenti tragici che ci piacciono tanto un contesto una competizione quella che vedrete oggi che il pubblico sta seguendo con grande attenzione e intensità da casa e infatti ne approfitto per fare un saluto al mio pubblico ciao mamma e ciao papà come sempre troverete le trascrizioni e un video bonus sulle espressioni che utilizzo in questo video iscrivendovi al nostro club di patreon ma oracciando alle bande e iniziamo con la classifica le cinque cose da fare se non volete cambiare il mondo al quinto posto della nostra classifica troviamo lamentarsi nei commenti perché per qualche strana ragione su cui gli scienziati stanno ancora dibattendo molte persone quando leggono o vedono qualcosa che non gli piace lo commentano per fare sentire la propria opinione vedono due o trecento commenti e pensano voglio che ci sia anche il mio commento là in mezzo ma non si tratta di commenti costruttivi si tratta di lamentele devono assolutamente fare sapere al mondo che quel contenuto proprio non gli è piaciuto e io mi chiedo a che serve a niente a che serve scrivere un commento che si perderà in mezzo ad altre centinaia di commenti che nessuno leggerà mai a meno che non sia un masochista ed ecco perché lamentarsi nei commenti e nella nostra classifica delle cinque cose da fare per non cambiare le cose complimenti lamentarsi nei commenti il nostro quarto classificato è fare le challenge i social sono un terreno fertile per tutto ciò che sta sotto l'ombrello del perdere tempo ma quando uniamo l'idea del perdere tempo a quella di metterci in mostra e all'idea di mentire a noi stessi dicendoci che lo facciamo per cambiare il mondo per sensibilizzare ecco che le challenge sono il prodotto perfetto ok qualcuno dirà che a volte qualche risultato lo si ottiene per esempio tutti ci ricordiamo l'ice bucket challenge no ma proprio per questa ragione le challenge sono al quarto posto della nostra classifica un altro applauso per le challenge siamo arrivati alle prime tre posizioni chi vincerà questa edizione delle cinque cose da fare per non cambiare il mondo io sento già una grande tensione nel pubblico e lo so lo so che alcuni stanno aspettando di vedere in questa classifica delle cose inutili il congiuntivo purtroppo quest'anno per quanto usare il congiuntivo sembri agli italiani inutile e dannoso il congiuntivo è stato squalificato dalla competizione perché è ancora presente nelle situazioni formali anche nei libri nelle relazioni sane tra le persone ritenta l'anno prossimo congiuntivo prima del podio però alcune menzioni d'onore alcuni partecipanti di questa competizione che non sono entrati in classifica per un pelo menzione d'onore per spiegare le cose alle persone spiegare le cose a volte serve a volte non serve a nulla possiamo spiegare le cose mille volte e con tutta la precisione e dovizia di dettagli ma se la persona con cui parliamo non ci ascolta o non è in grado di capire stiamo solo perdendo il nostro tempo un applauso quindi all'inutilità di spiegare le cose a chi non è in grado di capirle e menzione d'onore anche per un secondo partecipante che è trovare un colpevole ad ogni costo pratica molto piacevole che oramai governa i meccanismi della nostra democrazia quindi un grande applauso per questi due partecipanti che di certo hanno un grande futuro davanti e ora silenzio siamo al podio terzo classificato mamma mia che gara signore e signori è essere manichei essere manichei significa vedere le cose vedere il mondo per estremi bianco o nero bene o male pasta alla carbonara con il guanciale o pasta alla carbonara con la pancetta sebbene essere manichei sia un partecipante meglio conosciuto nell'ambito della filosofia le sue azioni sono molto quotidiane e informali e aiutano tantissimo tutta la popolazione a non capire il mondo e perciò a non cambiarlo grazie essere manichei per renderci ogni giorno un po più superficiale e ora secondo posto signore e signori stiamo arrivando al culmine di questa bellissima edizione ma siccome viviamo in un sistema capitalista non basta fare dell'intrattenimento per il piacere di farlo serve anche la pubblicità perciò ecco pubblicità sei uno studente di italiano di livello avanzato b2 c1 c2 vuoi approfondire la tua conoscenza dell'italiano e delle strutture della grammatica i corsi di italiano avanzato ti aspettano scrivici ma mail e organizziamo un incontro gratuito per conoscerci e noi abbiamo corsi individuali corsi di gruppo ma anche corsi di scrittura e gruppi di conversazione ti aspettiamo bene a rieccoci tornati in studio al secondo posto della nostra classifica delle cinque azioni da fare per non cambiare il mondo c'è incredibile il nemico più grande della mafia della politica e di ogni dittatura al secondo posto signori firmare le petizioni ogni giorno migliaia di petizioni nuove firma per salvare la foresta amazzonica firma per dare più finanziamenti alle energie rinnovabili firma per fare la rivoluzione firmare le petizioni unisce la totale inefficacia della nostra azione pratica del firmare alla soddisfazione enorme di avvicinare il nostro nome a una battaglia importante una doppia soddisfazione quindi perché in fondo lo sappiamo dentro di noi che non vogliamo davvero cambiare le cose altrimenti non firmeremmo una petizione via internet comodamente seduti sulla nostra poltrona e mentre firmiamo petizioni e su petizioni le cose restano come sono noi crediamo di aver fatto del bene e l'affluenza alle elezioni raggiunge i minimi storici ben fatto firmare le petizioni seconda posizione meritatissima ed ora ci siamo cari telespettatori che mi state seguendo su spotify o su youtube e quindi cari mamma e papà stiamo per scoprire chi è il vincitore ma prima un piccolo riepilogo della nostra classifica delle cinque cose da fare per non cambiare il mondo al quinto posto troviamo lamentarsi nei commenti al quarto posto fare le challenge podio terzo posto per essere manichei seconda posizione per firmare le petizioni e ora basta tergiversare datemi la busta il primo classificato di questa edizione delle cinque cose da fare se non vuoi cambiare il mondo è no questo sono io sono io da piccolo guardate solo per aggiungere un momento tenerezza a questa edizione che però chi mi ascolta da spotify non potrà vedere dicevo rullo di tamburi il primo classificato è fare la marcia per la pace ebbene sì ecco l'indiscutibile vincitore scelto dalla nostra imparziale giuria formata da stanchezza tragicità e ironia un po simile a firmare le petizioni fare le marce per la pace nel 2020 ci dà l'impressione di essere dalla parte giusta di combattere per i diritti di tutti di essere coraggiosi e bravi cittadini al servizio del bene salvo poi tornare a casa riconnetterci al sistema guardare la guerra al telegiornale e dire adesso si arrangiano loro io il mio l'ho fatto fare la marcia per la pace ascoltando john lennon tra l'altro ho fatto un episodio del podcast su john lennon andatelo ad ascoltare è un modo per ottenere la pace sì però la pace per noi stessi per farci credere di fare abbastanza per questo mondo sperando magari di finire in televisione e raccontarlo ai amici io c'ero ero lì in prima fila con il mio fiocco alla marcia della pace dittatori siete avvertiti spero che questa edizione della competizione vi sia piaciuta e che l'abbiate ascoltata con la giusta dose di umorismo io sono pietro il presentatore di questa puntata e insegnante di lingua italiana e vi auguro una buona serata chiedendomi quali altre azioni potranno diventare inutili in futuro e vincere questo premio un grande abbraccio e pubblicità